Gli imprenditori delle due nocera, il loro, lo hanno fatto e stanno continuando a farlo, mentre, per ora, risultano in ferie, assenti ingiustificati, i tifosi della nocerina. Abbonamenti a rilento, poche le tessere vendute dal club rossonero, con conseguente delusione della dirigenza, che, salvata da sicuro fallimento la squadra, si aspettava una corsa all'acquisto del prezioso blocchetto che, finora, non è avvenuta. Tessere snobbate, dunque, in casa rossonera, anche se c'è un pizzico di tempo ancora per porre rimedio. Di certo, tutto quell'entusiasmo sbandierato subito dopo aver evitato la non iscrizione al torneo di prima divisione sembra essere sfumato tra la gente. Si sa, nocera è piazza esigente, vedersi costruire una squadra anonima, almeno per ora, giovane, tutta da decifrare, non aiuta a far correre la gente al botteghino. Una mano, in tal senso, potrebbe giungere dall'amichevole di domani sera contro l'Avellino. Un test che, di sicuro, richiamerà tifosi, curiosi e non solo, con parte dell'incasso che andrà in beneficenza. Ci si attende una nocerina sbarazzina, veloce, che giochi a viso aperto contro i lupi irpini di Rastelli, che non avranno il centrocampista Togni, infortunatosi l'altro giorno in Coppa, e che potrebbe prendere Renan dalla Sampdoria e Carrus dal Frosinone. A proposito di mercato, il direttore generale Pavarese sta concentrando le attenzioni su movimenti di secondo piano. Il problema, secondo noi, quello più impellente da risolvere, è riguardante la prima punta che manca. Prendere il centroavanti di categoria, scafato, motivato, magari a prezzo non esagerato, è la priorità fondamentale, o dovrebbe essere questa la priorità. Il resto è solo contorno. Anche in casa paganese non ci sono cifre positive, dopo l'avvia della campagna abbonamenti denominata Riaccendiamo la Passione. Per ora la stella dell'entusiasmo, anche tra i tifosi azzurri, non si è affatto accesa. Ma la società non si scompone. Il presidente Trapani non vuole costringere nessuno a portarsi allo stadio o al botteghino e nasconde la delusione dietro la solita frase, chi viene il benvenuto, ed è quello che conta. Prepara invece un altro colpo importante per il centrocampo il direttore generale Cocchino Deboli. Si parla infatti con insistenza, nelle ultime ore, del possibile ingaggio del mediano Leandro Vitiello, classe 85, che dopo Grosseto e Ascoli è passato in Svizzera al Bellinzone in Serie B, dove ha giocato però poco e niente, prima di rimanere senza squadra. Nativo di Scafati come il fratello, Vitiello potrebbe essere l'idea giusta per rinforzare il centrocampo della Paganese, sotto l'aspetto qualitativo e dell'esperienza.